Il mondo del cinema ha visto la sua giusta dose di trionfi e tragedie, e pochi attori incarnano questa dualità così profondamente come Massimo Serato. Nato il 31 maggio 1916 a Oderzo, in Italia, Serato sarebbe diventato uno degli attori più stimati della sua generazione, con una carriera durata oltre 60 anni. Eppure, dietro lo sfarzo e il glamour del suo personaggio sullo schermo, la vita di Serato è stata segnata da lotte e dolori personali che hanno aggiunto profondità alla sua abilità artistica. I primi anni di Serato furono intrisi di amore per il teatro e le arti dello spettacolo. Affina la sua arte o l'Accademia di Belle Arti di Venezia e intraprende un viaggio che lo porterà sui palcoscenici italiani e infine sulla scena cinematografica internazionale. Il suo debutto cinematografico avvenne nel 1937 con il film italiano Marcella, e da quel momento in poi la presenza accattivante e l'abilità recitativa di Serato iniziarono a catturare il cuore del pubblico. Negli anni 40 e 50 Massimo Serato si affermò come una figura di spicco del cinema italiano. È apparso in una vasta gamma di film, dai drammi romantici ai poemi epici storici, e ha lavorato con registi famosi come Roberto Rossellini e Lucchino Visconti. La capacità di Serato di trasmettere un ampio spettro di emozioni con sfumature e autenticità lo ha reso un attore ricercato e le sue interpretazioni hanno lasciato un segno indelebile nell'industria cinematografica italiana. Nonostante il suo successo professionale, la vita personale di Serato fu piena di tumulti. Ha affrontato una serie di matrimoni e relazioni fallite che hanno lasciato cicatrici nel suo cuore. Questi insuccessi romantici spesso rispecchiavano le tragiche storie d'amore che rappresentava sullo schermo, confondendo il confine tra le sue lotte nella vita reale e i suoi ruoli di attore. Una delle interpretazioni più memorabili di Serato risale al film del 1963 Il Gattopardo, diretto da Lucchino Visconti. In questo capolavoro cinematografico, ha interpretato Don Francesco Paolo, un personaggio diviso tra tradizione e progresso nel mezzo di sconvolgimenti politici. Il ritratto di Serato è stato salutato come un capolavoro di recitazione e il film stesso è diventato un classico duraturo. Con il passare degli anni Massimo Serato ha continuato a lavorare nel cinema italiano e internazionale. È apparso in produzioni hollywoodiane come Guerra e Pace e La venticinquesima ora, consolidando ulteriormente la sua reputazione di attore versatile e affermato. Tuttavia, le ombre della sua vita personale continuavano a perseguitarlo e lui era alle prese con l'alcolismo, un vizio che alla fine avrebbe messo a dura prova la sua carriera. Gli anni settanta segnarono un periodo impegnativo per Serato, sia a livello professionale che personale. La sua lotta contro la dipendenza e la sua reputazione di persona con cui è difficile lavorare hanno portato a un calo delle sue opportunità cinematografiche. Mentre combatteva i suoi demoni interiori, la sua carriera, un tempo promettente, iniziò a scemare e si ritrovò messo da parte da un settore che un tempo aveva celebrato il suo talento. Tragicamente, la storia di Massimo Serato ha preso una svolta devastante quando ha dovuto affrontare difficoltà finanziarie e problemi di salute nei suoi ultimi anni. Ha vissuto una vita solitaria, isolato dalle luci della ribalta e dall'adorazione dei fan. L'attore che una volta aveva incantato il pubblico con le sue interpretazioni era ormai l'ombra di se stesso. Il 22 dicembre 1989 Massimo Serato muore all'età di 73 anni a Ostia, in Italia, lasciando dietro di sé un'eredità tanto complessa quanto profonda. La sua vita è stata una testimonianza degli alti e bassi che spesso accompagnano una carriera nel settore dell'intrattenimento. Sebbene le sue lotte personali e le tragiche relazioni amorose abbiano aggiunto strati alla sua recitazione, hanno anche messo a dura prova il suo benessere e hanno contribuito al declino della sua carriera. In conclusione, la vita e la triste storia di Massimo Serato servono come un toccante ricordo dell'intersezione tra arte e vita nel mondo del cinema. Il suo talento eccezionale e la sua capacità di trasmettere la profondità delle emozioni umane sullo schermo erano innegabili, ma erano anche intrecciati con demoni e sofferenze personali. L'eredità di Serato sopravvive attraverso il suo straordinario corpus di lavori, che continua ad essere celebrato da coloro che apprezzano l'arte della recitazione. La sua storia è una testimonianza del potere duraturo del grande schermo e delle vite complesse di coloro che lo abbelliscono.